Sabato i 20 marzo Matteo 19, 13-15 Lettura del Vangelo secondo Matteo In quel tempo furono portati al Signore Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse, «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro infatti appartiene il Regno dei Cieli e dopo aver imposto loro le mani andò via di là. Lasciate che i bambini vengano a me». I discepoli invece, Bacchettoni, questi bambini li sgridavano, non volevano farli arrivare da Gesù. Ecco, non so se vi è capitato, ma c'è sempre nell'infanzia qualcuno che, quando stai facendo la cosa più sacrosanta del mondo, tipo giocare con una palla, ti sgrida. Ti sgrida perché ci sono i fiori che si rovinano, ti sgrida perché nel prato del condominio non si può giocare, ti sgrida e in qualche modo ti blocca lo sviluppo. Ecco, questi discepoli, che non erano ancora maturi come discepoli, volevano bloccare lo sviluppo spirituale di questi bambini. Ora, forse anche noi abbiamo corso il rischio talvolta di bloccare lo sviluppo dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei bambini che devono poter compiere la loro vita spirituale, ma non possono farlo perché qualcuno li stoppa nel loro cammino verso il Signore. Non ci accada questo. Lasciate che i bambini vengano a me. Buon cammino. Buon cammino.